Sto attaccando Si, già sto attaccando raga E dove devo scappare? Attività 10, bene Ma io non ho capito di che sto seguendo la telecamera Perché ce l'avete entrambi Io sento i passi dietro col capiserio Ma perché nel suggerimento dice Fai attenzione ai suoni lontanando Ah, sì, è vero Perché comunque il gioco ti dà anche indizi tramite il suono Ah, ecco Quindi se sentiamo una campanella Una cosa può essere che sta nei dintorni lì Il fantasma Eh, come l'altra volta ti ricordi Che abbiamo seguito il telefono che suonava E infatti, infatti La radio suonava dove stava Nella stanza del fantasma Quei bastardo schifoso Cattivo Cattivo e antipatico Secondo me Ci vuole una bella mappa Riguardante il cimitero E dovrebbero metterla Aspè, io cosa disti? Che dovevo mettere a fare il cimitero Sono tutte mappe al chiuso No, perché scusa Non ci stanno anche le zone al chiuso Anche qualche giardino si può fare Il fantasma non può apparire anche all'aperto No Appare nei luoghi chiusi il fantasma Proprio per definizione di fantasma Boh Non è vero, lo sto buttando a casa Oh, venite a prendere la La live on camera Dabby Come si mette? Qua, qua, premi, eh Semplicemente E poi subito lo indossi Dove sta? Qua Live on camera Eh, e poi? No, si è spinto È ora perfetto L'ha indossata Usa Prendi gli altri oggetti Con la E si indossa pure La c'è indossata, sì Va bene Allora prendo il termometro La torcia Ah, che facciamo un po' più professionisti Comunque secondo me Cioè Tipo ci mettiamo così all'inizio A guardare un po' Bravo Bravo, è vero Così vediamo qualche Allora, ragazzi un attimo Io prendo torcia Eh, torcia termometro Comunque oggetto Perché devi dire queste cose? Non lo vogliamo sapere No, perché voglio No, non lo voglio sapere Ah, lo mi porto la telecamera? No No E quindi? Non devi portare niente Allora, prima cosa non ho visto neanche le emissioni Perché voi non le dite ad altavuce Quindi Ma non abbiamo usato Allora MF Devi Ah, l'incendio Eh, ma se porto ora l'MF Non lo posso tenere in mano Non ho il termometro, ho l'MF Ho l'MF Ho il termometro Ah, ok Porto anche l'MF Sì, sì, lo porto Perché tanto che me ne frega Ho trovato la stanza Mi levo il termometro Ma i sensori possono servire per trovare la stanza O no? Eh Secondo me solo se lo metti Abbastanza vicino Dici tu magari non sei sicuro su due stanze Allora quello ti dà un indizio Però se lo metti Che ne so, nell'ala est Il fantasma sta nell'ala ovest Ma che ti devono rilevare? Boh, che ne so Li butti là, dici Ma quelli secondo me sono più visti come missioni Eh, infatti Uno degli aggiornamenti che devono fare È quello senz'altro di dare un senso Ah, sti sensori con un senso, diciamo Sì, magari, che ne so Ne metti due Due lati opposti E riescono a triangolare la posizione Ah, ci serve Allora Ci serve l'incenso Ma io non ho preso il termometro Ok La torcia potente Ok Sto guardando quello che vede Dabi Che dite, ci serve portare un crocifisso in giro oppure Secondo me sì Sì, eh Allora mi vedo il crocifissino Io ho il termometrino e il crocifissino E... Che altro? Io ho preso il libro Sì E poi che hai preso? Il termometro e la torcia Eh, ma il termometro e torcia Devi prendere per forza Quindi alla fine abbiamo un solo oggetto Dobbiamo trovare il luogo A meno che non si bugga tutto Dobbiamo trovare il luogo Raga, questo è quello che... Anche questo scendi Piano di sotto E non ti vedi più nella mappa Yes Bene No Vabbè, ragazzi, allora Questo sale al piano di sopra Ah, sale al piano di sopra E comunque non ti vedi più nella mappa Eh... Quindi dobbiamo fare Assistere all'evento paranormale Purificare l'area con l'incenso L'MF l'ho portato Non si sa mai E poi dobbiamo scoprire che tipo di fantasma è Va bene Andiamo Come si chiama? Barbara Wilson Sì, non cominciare a entrare urlando Come un decelebrato Ma oggi sei tu davanti? Sì, sono io Ah Vi aspetto qui, eh Prima di aprire la porticina Vai Ma questa è la scuola James Brownstone High School Perché poi l'hanno chiusa, eh? I soliti magna magna, eh? No, secondo me Problemi all'istruzione pubblica Dividiamo C'è una a destra, una a sinistra Io vado... E vado a dire C'è una a luce, che bello Io vado a sinistra Io vado a destra Vado prima a destra Perché poi... Ah, no, io vado a pieno di sopra loro Dove si saliva? Di qua mi pare A destra o a sinistra Oh, 3 gradi Ho trovato la stanza 3 gradi No Già l'avete trovata? No, no, no Allora mi segnava 3 gradi A me 8 gradi e 5 E qua 3 gradi Pure a me E qua, e qua, e qua Forse è questo Ah, il corridoio? Qua è 6 gradi 3 gradi e 7 4 gradi e 5 E qua dentro 3 gradi e 4 8 gradi O è 7 così tanto Un po' ovunque Cioè così tanto basta No, ragazzi A me lo trova in questo corridoio Gradi più bassi Forse è questo bagnetto qui Ragazzi, guardiamoci che professionale L'altra volta si è Praticamente il bugato 9 gradi, 6 gradi No, ma secondo me non è bug È proprio che... È complicato, ragazzi Tutto lo tutto Uh, 3 gradi qua Eh, raga, ma lungo tutto il corridoio qua Si mi dà 5 gradi, 6 gradi, 5 gradi Eh, però in questa stanza qua mi sembra più basso No Scherzavo No, ok, qua è più basso Sembra lì, vabbè Non si può mai capire 6 gradi 3 gradi Voglio vedere se vado al piano di sopra Quanti gradi ci sono 4 gradi Perché mo' pure al piano di sopra Siamo a 4 gradi Eh, raga, a livello professionale Non è facile scoprire dov'è a livello professionale È bassa ovunque Quanti gradi di che registri lì? 3 gradi qua sopra E poi già spento tutte le luci Ragazzi, qui se attacca, correte Non vi impiantate a qualche parte In teoria soltanto Sì, ma dove corro? Che io mi dimentico la strada In teoria soltanto se un demone siamo Un revenant che corrono Siamo fottuti, però Ah Sicuro Sì Telefono! Dove squillava? Io ho sentito forse al piano di sopra qua Ma qua mi sta salendo la temperatura, scusate Ragazzi, quando meggi 9 gradi qua 4 gradi Forse ho trovato il telefono che ha squillato Ma non sono sicuro Cioè, ho trovato un telefono E qui è 4 gradi Però mi sembra un po' strano Il fatto che Non sia la temperatura Perché comunque ti deve far capire Dove mettere Eh, ma È più difficile, capito? La professione Ragazzi, secondo me Allora, quello col tempo La temperatura se ne scende anche Quindi se all'inizio proprio Abbiamo incrociato i 3 gradi Secondo me sta giù Proviamo a scendere giù Una altra volta Secondo me dobbiamo mettere qualche sensore Quella Probabile E io direi Direi qua sopra Nella stanza in basso È in fondo a sinistra lì Capito? Asgout Guardami Sì, ho capito In fondo a sinistra Lì in fondo là Ho visto che c'era un telefono Mi sembrava che venisse da lì Il found Sound of 6 gradi Io mi ero messa in mano l'MF Allora scusami C'è il libro dove lo lascio? Eh, no È tutto 6 gradi Provo a buttarlo qua a terra Quello riprendiamo quando saliamo Ma non è che era tutto, raga Aspetta Io giù Io 3 gradi non l'ho ricevuto Rilevato Eh, infatti scendendo Mi sta cominciando a dare 4 gradi No, raga Pure da altre parti sopra Mi ha andato 4 gradi 4 gradi Andiamo via Tutti insieme 4 e 7 5 e 1 4 e 5 Alla fine 7 e 7 Ora sta No, 3 e 4 3 A questo punto No, penso che è abbastanza inutile Diciamo Uno Io lascio Lo lascio qua Sto termine Magari uno se lo porta Per vedere se rileva La temperatura di congelamento Però Quindi che dobbiamo prendere? Beh Ah, direi Qualche sensore Buttiamo un po' di sensori Ovvero avete visto La salita un po' L'attività Dio, che è sta Ma l'elettro Guarda quanto è scesa La salita No, ma siamo scherzando Oh, vabbè Eh ragazzi Perché è giusto Cosa? Cosa è giusto? Che è scesa Perché a livello professionale Tu non hai dei minuti In cui più o meno Ti mantieni Il fantasma Il fantasma già poteva attaccarci Certo E io prendete i sensori di movimento Cioè i sensori vali Io prendo questo sensore qua Sonoro Da, prendi tu l'altro sensore Vediamo dove mi Vedo se vedo qualcosa A muoversi Ma che si deve muoversi? Se si sposta qualche oggetto Qualche cosa Ah, mi sento in un vicolo cieco Quando non ci danno la tempo È brutto All'inizio c'è un termometro Figuro Ma poi qua Bisogna provare a vedere Vedere le nostre telecamere Se ti po' vedi qualche Spera di luce Spera di luce E ci indichi dove andare Oh no, scusa Che ne pensi? Asgout E dobbiamo però Incrociare la stanza A sto punto Eh sì Va bene Fate una cosa però Portatevi sempre la telecamera Io porto la fotocamera Perché ce la portiamo La telecamera? Magari a posizionarla Eh no, ormai è troppo tardi Ho preso un sensore Di non so cosa Infrarus Allora, dove devo andare? Tra l'altro Dov'è che ci stai? Qualcosa per la luce Che forse Se accendiamo un poco di luci Impazziamo di meno Sai? Sì Ah, ci stavo Sulla mappa Il sensore Ma ora state camminando insieme? Sì, qua sotto Sì, sì Vuoi che camminiamo separati? Come si attiva? Con la E o con il tasto S? E l'hai attirato? Sì, però Tengo spenta la luce Va in visione notturna Sì, sì Ti conviene Non vedo niente Ti trovi di... Ah, guarda Si sono accese delle luci Eh, l'ho accesa io Ah Ma l'avevi accesa tu Passando di qua Sta attaccando Sì, già sta attaccando Raga E dove devo scappare? Attività 10 Bene Ma io non ho capito Di che sto seguendo la telecamera Che ce l'avete entrambi Io sento i passi dietro Qualca miseria Io sento che ha aperto la porta Oh, c'è il crocifisso Mi ha attaccato più Mi ha attaccato più ragazzi Mi ha attaccato più Odds, siamo vicini Eh Ma no, che anzi Quale mini bug? Ah no, non è mini bug Scusa È mancata la luce Proprio nel momento In cui ha finito di attaccare Quindi pensavo che fosse un bug Odds, dove sei? Sta al completo buio Perché sei Odds, dove sei? Sì, ma che ne so Dove sto Sto vicino a una stanza Piano di sopra Avevo lanciato pure un crocifisso Sta risalendo un po' l'attività Di poco, eh Non come prima Sta squillando il telefono qua Ecco, appunto Non sentite dove squilla? Mi sembrava che fosse Proprio nella stanza Dove sono io adesso Scusate, io faccio un giro di telecamera Perché magari Se riattacca Io vedo da che stanza esce Eh Ah, sgatto Tu dove sei, scusami? Piano di sotto Ecco qua Ecco qua Io sto al piano di sopra Secondo me Sta al piano di sopra Ah, eccolo Oh, davanti Ce l'ho a casa Ecco, sta andando verso di me Eccolo, lo vedo Lo vedi? Sì Eh, avete capito che stanza è? Che corridoio è? Come? Questo corre però, eh Mamma mia Mamma mia Me lo so ritrovato di faccia Raga, bruttissima Otti, ti occorro più di te stronzo Ma sta attaccando ancora a te Sì, mi sta inseguendo Sto figlio di Sì, infatti sto con la tua live action camera Lo vedo da te Ma finito di attaccare sto pezzo di Ma che ansia quando attacca Lasciamo un attimo Lancio la cruce ma non serve un attimo Allora abbiamo capito più o meno da dove arriva Arriva Dove è? Vi vedo sulla mappa Forse no Vi vedo Sì, stai tu Ozu Ozu, usciamo un attimo Eh, sì Ma non so se sto andando bene Sì, sì, si è andato bene Sì, si è andato bene Ma avremmo la porta a sinistra Qua Qua, qua, qua A destra Ah, beh, la tua Sì Certamente No, vabbè, fortissimo Ma che sono la porta qua Sta attaccando di nuovo Ozu, vieni, Ozu, vieni Sì, sì, ti seguo, ti seguo Vieni con me Ma secondo me sta lì a sinistra, eh Sta qua, sta qua Sta sicuramente qua Eccolo qua, lo vedi? Fai foto, fai foto Ah, no, non c'era la fotografica Eh, non c'è la macchina Dove sta? Non lo vedo Io non lo vedo Sta qua davanti a me Oh, non lo vedete Eh, ma sta proprio Sta proprio attaccato vicino a te Ah, no Sì, ma dove ce ne scappiamo, amo? Vieni, vieni, andiamo Ti sta raggiungendo, fra No, no, no Ti qua, ti qua, ti qua, ti qua A sinistra A sinistra A sinistra Non lo smette mai di attaccare, sta a me No Livello 10 Ha finito, andiamo Vediamo di uscire subito Eh, una parola che si attacca a niente Eh, esatto Questo è il problema Dabi, lancia un crocifisso così a caso Ho capito dove è la stessa Dabi, perché non ci viene ad aprire la porta Che mentre arriviamo questo ci riattacca Il mio personaggio oggi non vuole correre Facciamo una curva stretta, pare meno Mamma, dobbiamo correre, proprio correre di sé Eccola Eccola Eh, infatti appena sono arrivata fuori alla porta Prima, me l'ha chiusa in faccia Mamma Vieni qua, vieni qua, vieni qua, ozz ozz Facciamo lo stesso giochetto E ora non vi vedo neanche dal camera Lo facciamo fare sto giochetto, mi spiego Eh, lo facciamo Ah, dici così Eh, perché non vorrei che Ci fai un altro giro, capi? Non la posso attirare con un po' di torcia, di urli Urla Eccola, eccola, ozz, lo vedi? Andiamo Sì, sì Non ce la faremo mai a ritornare alla porta di ingresso Questa attacca sempre No, infatti Ecco la Ecco la Ecco la Sta puttana Ops, non dovevo dire Corri, corri Io sto sempre con quella cosa di vedere se la porta si apre Amore, arriviamo all'altezza di questa porta e finisce di attacca Si spera, eh? Ha finito, andiamo, 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 andiamo E corri Eh, corriamo come i dannati Dabbi, apri le porte Dabbi, apri subito la porta, vai subito L'ho aperto Non perdere tempo Vedere le stelle Ma penso che abbiamo tipo 0% di sanità mentale Un per cento e 0%, vai, non possiamo far più niente No, perché? No, 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 no Allora Vediamo, vediamo se Cioè, mi ha preso le foto il fantasma Fantasma, fantasma Ok, mi ha preso Cioè, per lui il fantasma Che va bene Quello dove non si vede un caspito Ragazzi Pronto? No, 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 no Grazie a tutti.